Buona serata a tutti ragazzi, è appena finita la partita, la Juventus pareggia a Bologna, oggi secondo me è un'occasione persa perché Milano ha steccato con la Roma, la Lazio ha perso e tu non riesci a vincere nemmeno contro questo Bologna. Per carità il Bologna ha fatto una buona partita secondo me, cioè a parte il primo tempo comunque sarà un caso, sarà un caso, ma quando tu hai giocato con la difesa a 4, quando tu hai giocato col 4-3 hai rischiato meno. Nel secondo tempo l'hai pareggiata che non sai neanche te come l'hai pareggiata perché bisogna anche dire che il Bologna sono mangiati veramente dei gol clamorosi, bisogna ringraziare che quel sicuramente sottoporta, non dico che sono scarsi, però veramente tu devi ringraziare oggi il Bologna che si è mangiato a gol perché sennò anche oggi perdevi la partita. Quindi, dopo niente, sul tempo ti sei abbassato e hai rischiato più e più volte il pennello del gol, perché oggi il migliore in campo è stato portiere, Scesni, cioè per il resto, per il resto a parte Fagioli che su me è al centrocampo è l'unico che si salva, ho letto critica Fagioli, no, è stato scandaloso, no. Cioè, Fagioli è l'unico, è l'unico a centrocampo che ha qualità, è l'unico che sa palleggiare. Oggi ci ha messo un po' più di grinta degli altri, basta, cioè gli altri difesa, secondo me oggi Gatti forse è l'unico che si salva. Danilo l'ho visto, lo vedo stanco, è da un po' di partite, lo vedo stanco perché anche oggi ha procurato, ha procurato rigore, il rigore era nettissimo perché li prende, potenmente li prende a ginocchio, però lo vedo veramente stanco Danilo. Alessandro anche oggi ha fatto le sue cappelle, le sue cappelle quadrato, lasciamo perdere ragazzi, lasciamo perdere perché veramente è irritante quel giocatore, veramente ogni volta che lo vedi. Quindi, cioè, a parte che oggi ha fatto veramente degli errori grossolani che per poco il Bologna ci stava per fare gol, però in fase offensiva ormai, cioè, fa sempre quello, fa sempre quello. Le solite finte, le solite robe, e poi a parte Milik oggi non mi è piaciuto tanto, cioè, a parte il gol che ha fatto, però su me è stata un po' la difesa del Bologna che si è schiacciato un po' troppo, però si è mangiato due gol clamorosi, cioè, due gol clamorosi, rigore, cioè, tu non puoi andarmi con quella leggerezza quando ottieni un calcio di rigore. Cioè, dall'anno in corso che ha preso, ho detto, questo sicuramente lo sbaglio, sicuramente lo sbaglio, e così è stato. Poi il gol che, insomma, si è mangiato, però a parte questo, non è che ha fatto chissà che Milik, insomma, la sufficienza, vediamo, vediamo se, dopo vi metterò i voti, insomma, Vlaovic, Vlaovic, dopo poi è entrato, ma, cioè, veramente, si è sentito, si è sentito, cioè, Allegri gli ha chiesto, gli ha chiesto, in fase di un possesso, di andare a una mano, di andare a una mano a difesa. Cioè, ragazzi, io, io, cioè, rimango, rimango allibito, rimango allibito, perché, dopo, è chiaramente, purtroppo, Allegri, lui non sa valutare i giocatori, è venuta fuori questa lite tra Vlaovic e Allegri, ma, non è la prima che viene fuori, però, tornando sulla partita, dopo, dopo che era messo un tempo, l'hai pareggiata, perché, non avevi un cazzo da perdere, non avevi un cazzo da perdere, mi è sulle, mi è su Miretti, che non mi sono piaciuti, come sono entrati, cioè, su me ha fatto più fagioli in Miretti, oggi, cioè, meno fagioli si è, si è impegnato, ok, si è mangiato due gol clamorosi, però, è l'unico, è l'unico, che ci mette un po', un po' di anima, e soprattutto, ha qualità a centrocampo, perché, noi, a centrocampo, siamo zero, cioè, Locatelli è l'unico che verticalizza, però, l'unico che attacca la profondità è Milik, cioè, gli altri non si muovono, cioè, è una squadra statica, cioè, primo tempo, non mi è dispiaciuto, meglio rispetto ad altre volte, però, comunque, vedi che i giocatori, non, cioè, non ci sono idee, non ci sono schemi, vanno a tutta improvvisazione, cioè, vedi anche il lancio degli ocatelli, proprio, vedi che queste cose non vengono provate nell'ambiente, perché, se queste giocate, ci fosse la memoria, queste cose le vedresti più spesso, purtroppo, noi, andiamo, di inerzia, andiamo, sui cross, perché Milik, praticamente, ha segnato, su un cross di healing, il, secondo me, è l'unico che è entrato bene, quelli che sono entrati dopo, però, secondo me, un po', si è spento, però, dopo il gol, ci siamo abbassati di nuovo, cioè, hai rischiato di prendere con il 2 a 1, tu devi ringraziare, che il Polonia, coi piedi, veramente, sono, veramente, scarsi, scarsi, eh, cioè, il migliore campo è stato Czesny, che ti è salvato più e più volte da un tempo, primo tempo, hai rischiato, hai rischiato di meno, perché avevi la difesa a 4, e purtroppo, ragazzi, che piaccia o non piaccia, tu, con la difesa a 4, rischi di meno, rischi di meno, poi, quando siamo tornati a 5, quando hai messo il 4-4-2 in fase di un possesso, fagioli a fare l'esterno di centrocampo, e tu hai, tu hai rischiato di prendere il gol di nuovo, dopo, tu, cos'è che fai, perché è allegri, la pareggiata con i cambi, non è vero un cazzo, perché, a parte che, lui, giovani, perché healing è da, è da tanto tempo che non si vedeva in campo, tu lo hai messo perché, purtroppo, quando sei con l'acqua alla gola, forse ti svegli, no? Perché oggi hai messo il 4-3-3, perché l'ha messo il Bologna, perché, purtroppo, uno dei tuoi grandi limiti è che tu ti ha dati troppo l'avversario, ti ha dati troppo l'avversario, poi sei tornato a 5, ti sei chiuso di nuovo difesa, e hai rischiato di prendere il gol, però, sul tempo, non è che hai fatto chissà che, secondo me è stato un buon primo tempo, però dopo è di nuovo passato la squadra, quindi, secondo me, oggi la partita la potevi vincere assolutamente con più intelligenza, perché se tu entravi come sentato nel primo tempo, la partita la portavi a casa, cioè, purtroppo, ragazzi, questo allenatore, veramente, ormai, cioè, non c'è più con la testa, non c'è più con la testa, perché oggi, cioè, Chiesa oggi male anche lui, cioè, svariava su tutto il fronte d'attacco, ce l'ho visto anche tante volte fare la punta, cosa che Chiesa non possa fare, però, purtroppo, ragazzi, Chiesa è un altro giocatore che è stato rovinato da Allegri, perché tante volte lo fa tornare e chiaramente, dopo quando arriva negli ultimi trenta metri, stanco e sbaglia la giocata, ma è umano, cioè, tu non puoi fare fare a Chiesa avanti e indietro, avanti e indietro, cioè, lui è nascendo d'attacco, deve stare in attacco, Kostic, così così, perché, a parte metter il cross, non so fare altro, cioè, non provo mai uno contro uno, cioè, anche in primo tempo, quante scelte abbiamo sbagliato, ma, ma vedi che anche quando cerchiamo di fare un contropiede, non ci sono idee, perché Allegri, poi mi intanto mi dicono, eh, ma l'Inter, sì, però l'Inter vedi che, che ripartono in 6-7, ma da squadra, da squadra, sanno quella cosa che devono fare, anche nei contropiedi, li sanno fare, noi andiamo sull'inerzia, andiamo a caso, no? Quindi, quindi, un po' meglio, sì, ma neanche più di tanto, eh, perché al prossimo tempo si è tornato di nuovo a far schifo, come le solite partite, quindi, quindi niente, cioè, partita, partita un po' così, un po' un po' nel primo tempo, però, dopo il suo tempo, si è trovato il gol del pareggio, però, il Bologna oggi, oggi ti ha palleggiato in faccia, eh, cioè, questi con tre passaggi, con tre passaggi, andavano in porta, cioè, no, so, non è neanche un pressing, perché con tre passaggi, loro eludono il tuo pressing, e bisogna ringraziare il portiere, oggi, che, che ti ha salvato, perché, sennò, la partita, oggi, non apparece, i cambi, anche oggi, vergognosi, secondo me, perché, ne so, parede, sparede, secondo me, non sta neanche in piedi, dopo quelli, sulle, eh, Miretti, non mi sono piaciuti come sono entrati, l'unico, forse, healing, ma anche lui, si è un po' spento, perché anche lui, va a tornare indietro a fare il quinto di difesa, ecco, stiamo parlando, ragazzi, niente, ragazzi, io, sono tutto qua, fatemi sapere cosa ne pensate, magari, un po' come voi, avete visto la, la partita, ma, ah, sì, tra l'altro, ho parlato Calvo, no, dicono che, dico il progetto di quattro anni, no, che, che per Allegri, parlano i trofei, ma quali i trofei? Ma quali i trofei? Sì, i trofei, degli, di cinque anni, sì, ma Allegri va giudicato adesso, non i trofei precedenti, cioè, quale sarebbe il progetto? Che progetto è? Cosa ha, cosa ha portato a Allegri? Chi ha valorizzato in questi due anni? Quindi, cioè, io, io spero che siano, parole di facciata, quelle di, di Calvo, perché, veramente non, cioè, io altri due anni, non ce la faccio con, con Senatore, non ce la faccio proprio, cioè, io spero che, che queste ultime sei partite, poi bisogna vedere se arriverà in finale, di Hoppa League, però, il dirigente della Juve, non può, non può parlarmi di, di progetto con Allegri, perché è nato, Allegri non è nato da progetto, soprattutto, non può, dirmi, i trofei parlano per Allegri, ma quali i trofei? In questi due anni, non ha, cioè, qua non è un discorso di trofei, un discorso di, anche di prestazioni, di Allegri, non ha, non è migliorato, cioè, non c'è una partita che abbiamo fatto bene, cioè, trovate, mi vuoi una, una partita che la Juve ha giocato bene, quindi, io spero che, ovviamente, che siano, parole di circostanza, perché voi sapete, voi sapete, se dovesse rimanere in Allegri, cosa, cosa farò io? Niente ragazzi, io vi saluto qua, sempre, fino a fine, forse a Juventus, e, io spero che, siano gli ultimi partiti di Allegri, questo, perché, si vede che i giocatori, non lo seguono più, sì, oggi i giocatori hanno, hanno pareggiato, ma, per loro orgoglio, ma si vede che, non lo seguono più, cioè, ha litigato con Vlaovic, con Di Maria, Chiesa, cioè, molti giocatori non lo supportano, quindi, io spero che, che se ne vada, perché, altri due anni, veramente, non ce la farei, veramente, psicologicamente, e moralmente, buona notte a tutti, e sempre, fine alla fine, forza Juventus, fino al suo esonero, fino al suo esonero, e, quindi, la fine, è un'esonero,